Il Borgo Vercelli passa sul campo dell'Oleggio e ottiene il successo all'ultimo respiro. Gli Orange avevano ottenuto il pareggio ma crollano nel finale. Gala subito accesa. Dopo appena un minuto il Borgo Vercelli rischia di passare in vantaggio a sorpresa. Miglietta tenta il traversone dalla destra che diventa però un tiro e va a scheggiare la traversa. L'Oleggio risponde al decimo con la punizione di Cherchi Luca. Palla all'angolino ma Cantele si allunga ed è via in angolo. Ancora Cherchi Luca impegna il portiere avversario al quindicesimo con una bella conclusione dalla distanza parata in due tempi. Sono gli ospiti a passare in vantaggio un minuto più tardi mettendo in mostra tutta la propria qualità. Triangolazione perfetta degli avanti Gallace riceve in aria e spiazza Sivero immobile per l'1-0. L'Oleggio prova a tornare in corsa ma il Borgo Vercelli è pericoloso in contropiede. Alla mezz'ora Rognone si porta dietro un paio di avversari e giunto sul fondo serve in mezzo per De Laurentiis che non arriva per un soffio. Gli Orange non mollano. Al trentaduesimo va circa, riceve sulla trequarti e tenta il colpo da fuori. Ottimo riflesso di Cantele che salva l'incrocio. Dall'altra parte al trentasettesimo ci prova anche Sposito dalla trequarti. Il tiro è preciso ma il pallone si stampa sulla traversa. Borgo Vercelli vicino al raddoppio. Nel finale Canton calcia dalla distanza. Sulla traiettoria c'è Cherchi Luca che prova a deviare in rete ma nulla di fatto. La ripresa si apre con la punizione di Latta all'ottavo. Alta sopra la traversa. I padroni di casa provano ad alzare il ritmo per il pareggio. Ma è ancora il Borgo Vercelli ad avere una doppia occasione al ventesimo. Rognone serve a centro dell'aria nella mischia ma Sivero abbassa la sala cinesca e respinge su due tiri ravvicinati. Si arriva al ventiduesimo quando l'Oleggio ottiene un calcio di rigore che può cambiare le sorti del match. Dal dischetto si presenta Latta che è freddo e spiazza il portiere firmando l'uno a uno. Gli ospiti si riportano virtualmente avanti al ventiquattresimo con il neoentrato Petrillo ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al trentunesimo ancora Petrillo su un traversone da destra manca l'impatto di testa sul pallone da pochi passi. Subito capovolgimento di fronte con Latta che riceve sul secondo palo il cross di Mattioni e calcia ad incrociare ma la mira è sbagliata. Nel finale grave scontro di gioco tra Miglietta e Biano che ha la peggio e rimane a terra diversi minuti. La gara poi riprende e proprio in extremis il Borgo Vercelli trova il gol vittoria. Cross dalla destra, Bagdadi si inserisce in aria e di testa in tuffo mette in rete, calando il sipario sul match. È un gol pesantissimo che consente ai suoi di portare a casa i tre punti e restare in testa alla classifica.